Cari lettori di Xtreme Hardware, questo è un video di presentazione della recensione del ThermalWrite AXP200, la naturale evoluzione del ThermalWrite AXP100 che abbiamo recensito diversi mesi fa e che era un dissipatore specifico per sistemi mini-ITX, tra parentesi, uno dei migliori in circolazione, se non addirittura il migliore in circolazione, ho ottenuto un punteggio eccellente ma soprattutto una serie di premi che attestano l'assoluta bontà di questo modello, questa è la versione successiva, la versione potenziata, è un video di presentazione che vi spiegherà la recensione, in cosa consiste i test che abbiamo effettuato e vi darà una panoramica generale sul modello e su quello che contiene questa confezione. Bene, procediamo. La confezione classica, cartone, nulla di sostanziale, zero informazioni all'esterno, se non il semplice nome del prodotto e poi ovviamente il codice a barra nella pasta inferiore. Aprendo la confezione troviamo fondamentalmente nulla, nel senso una grande scatola contenente il bundle che troverete appunto a spiegare nella recensione, poi un imballo eccellente, su stellati di polietilene espanso. Non è polistirolo, non si fa a pezzi, è un imballaggio davvero ottimo. La ventola, una particolarità degna di nota di questo modello, 140 mm, spessore contenutissimo, dovrebbero essere 10 mm, controllate alla recensione per i dettagli principali. Comunque sia, un nuovo modello a casa Thermalright, il seriale è il TR14013, ventola che promette davvero bene per quanto riguarda le performance complessive del modello. Oltre a questo non c'è nient'altro, bisogna rimuovere il confezionamento, aprire e provare un dissipatore all'interno di una bustina di plastica. Vediamo via la scatola che non serve. Innanzitutto, nichelatura su tutta la superficie, alette in alluminio, heat pipes in rame, finitura nichelata, base in rame, finitura nichelata. 6 heat pipes da 6 mm, una solidità strutturale davvero impressionante, una qualità della lavorazione come al solito eccellente. Ad esempio notate il logo Thermalright impresso su ogni scutatura delle heat pipes, davvero eccellente. Notate quanto si deforma questo modello. È davvero difficile riuscire a modificare l'orientamento spaziale di una letta. Per quale motivo? Perché sono saldate e incastrate all'interno della struttura. E quindi una lavorazione semplicemente eccellente. Non poteva che essere altrimenti appunto perché è un prodotto Thermalright e questo marchio è davvero un marchio dell'eccellenza per quanto riguarda la dissipazione termica. La base, come vedete, presenta delle saldature sulle singole heat pipes. Quindi è stata riposta la massima attenzione soprattutto anche per quanto riguarda quel discorso. Per quanto riguarda le dimensioni complessive, vi facciamo leggere direttamente sul manuale i dettagli. Ecco. Benissimo. 153 mm in lunghezza, 140 in larghezza, 60 mm l'altezza dalla base. 42 mm è la larghezza della base e questa porzione invece misura 49 mm. Quindi partendo dalla base fino alla massima estensione del dissipatore. Partendo dalla base, innanzitutto è lunga 40 mm. Poi sono presenti due corpi dissipanti spaziati, quello inferiore è lungo 40 più 28.5 mm, mentre il corpo principale è lungo 40 più 73.5 mm, mentre la lunghezza complessiva che appunto tiene conto anche della scudatura terminale delle heat pipes è lunga 40 più 83.5 mm. L'altezza dal primo corpo dissipante alla base è 22 mm, mentre l'altezza dal secondo è 33 mm. Questo è importante per via della compatibilità dei modelli. Per quanto riguarda i test che faremo nella recensione, innanzitutto verrà utilizzata la ventola stock in configurazione push a 800 rpm al massimo degli rpm. Verrà inoltre utilizzata la ventola thermal wright T141, che è un modello davvero molto valido di thermal wright che abbiamo recensito nel corso di un roundup termico. Inoltre verrà testato con una delle migliori ventole da 140 mm che potete acquistare, ovvero la Noctua NFF12 da 120 mm. Per ragioni di compatibilità essendo un dissipatore Mini TX verrà testato anche sulla P8 Z77i Deluxe motherboard. Testato non a livello termico, ma semplicemente a livello di compatibilità. Questo è quanto. Ricordiamo che questo modello di scala madre è uno dei migliori perché integra delle modifiche nella sezione di alimentazione davvero molto interessanti. Il dissipatore AXP200 è un modello che riesce a coniugare le performance con la compattezza di un design che, se sulla carta rispetto all'AXP100 sembra essere promettente, sul campo dimostrerà di essere tali come vedrete nel corso della recensione. Più che altro un discorso che ci preme sottolineare è la qualità assoluta dei prodotti Thermal Drive. Osservate con i vostri occhi e vedete. Qualora foste interessati e procedeste all'acquisto di questo modello o di modelli simili, balzerebbe subito all'occhio una cosa, la qualità costruttiva. Semplicemente fantastica. Buona lettura, fateci sapere cosa ne pensate, commentate la recensione. Buona giornata a tutti!